Bene, mi è stato chiesto di aiutare a fare una lampada fatta più o meno così questa qui è una lampada a cartella e partendo da un cilindro vediamo semplicemente di come riusciamo a ottenere questo effetto non farò tutta la lampada ma solo il necessario quindi innanzitutto mi sono fatto dare l'aspetto che ha quindi vedete che è liscio esternamente internamente invece vedete che sono semplicemente dei triangoli quindi questo è quello che andremo a cercare di eseguire con Blender Blender stiamo in Blender in Blender cancelliamo il nostro cubo e aggiungiamo quello che è un po' più vicino a quello che vogliamo fare possiamo partire anche dal cerchio che forse è più semplice in effetti e poi estrodiamo il cerchio quindi aggiungiamo una mesh e in particolare un cerchio questo cerchio come vedete è composto lo vediamo se lo dice qua da 32 vertici ora probabilmente noi abbiamo bisogno di fare qualcosina in più però adesso per raggiungere i vertici bisognerebbe contare se tutti questi affari qua nel compresso siamo più o meno i 32 mi sa di sì però per semplicità adesso lo faremo su sul numero di vertici che abbiamo però tenete conto che per aumentare i vertici basta anche qua se vogliamo averne 64 ad esempio abbiamo abbiamo più vertici su cui lavorare magari siamo più aderenti allora andiamo in modalità modifica e vediamo che adesso sono aumentati i vertici e sono questi e quindi noi cosa facciamo guardiamo innanzitutto con sette del tastrino numerico lo vediamo dall'alto vedete che abbiamo selezionato tutti i vertici ma noi vogliamo dunque vogliamo estrudere verso l'interno quindi facciamo una estrusione e poi una scalatura semplicemente per dargli praticamente un po' di spessore al cerchio ora vedete che sono evidenziati tutti i punti interni ma noi visto che vogliamo poi avvicinarne alcuni a modo di triangolo dobbiamo deselezionarli a cosiddetto a scacchiera abbiamo selezione deselezione a scacchiera che se ne seleziona uno sì e uno no a questo punto di questi facciamo la scala quindi facciamo S e vedete che avvicino questi vertici adesso qui un po' a seconda di come lo faccio ovviamente ottengo un effetto o l'altro ora se quello che vogliamo ottenere cioè se questo è già quello che ci interessa quindi se questa è la sezione interna siamo a cavallo perché a questo punto cosa facciamo selezioniamo tutti con A facciamo EZ e otteniamo praticamente il nostro la nostra esempio di lampadina che poi a questo punto possiamo andare su quale possiamo operare con dei controlli R quindi mettiamo un po' di di allora qui siamo qua facciamo controlli R ne mettiamo un altro insomma possiamo controlli R invio quindi abbiamo abbiamo vari punti su cui possiamo operare quindi possiamo stringere e ampliare insomma tutta questa lampadina come vogliamo ma già lo sappiamo fare quindi facciamo S per scalare questi punti e magari sì magari ah sì perché dobbiamo scalarli e selezionarlo tutto quindi facciamo Z per reticolo selezionare reticolo vuol dire che adesso possiamo selezionarli ed essere sicuri di selezionare quelli che vogliamo quindi facciamo Alt A facciamo B per selezionare soltanto questi punti e poi se vogliamo possiamo anche abilitare il proporzionale il proporzionale permette di muovere vedete in maniera più o meno in maniera tale da muovere anche il resto del nostro oggetto e più lo facciamo intenso e più ci modifica praticamente il pezzo che vogliamo selezionare e quindi così abbiamo dunque qui però mi sa che abbiamo selezionato non abbiamo selezionato tutto tutto ah sì perché ci ha selezionato soltanto l'anello esterno invece noi vogliamo vogliamo selezionare tutti e due gli anelli cioè quindi quando abbiamo fatto la suddivisione qua dobbiamo suddividerlo anche dentro per selezionarlo anche dentro facciamo ancora qui un controllo r vedete che ci praticamente selezioniamo questa parte qua e quest'altra la spostiamo z in maniera magari senza questo g z ok la selezioniamo in modo tale che sia più o meno allineata a quello esterno e a questo punto vedete che abbiamo selezionato questo anello interno e poi selezioniamo anche l'anello esterno quindi facciamo b così ecco e così dovrebbe funzionare meglio facciamo magari con il proporzionale s ok e questo è diciamo un esempio z solito torniamo al solito quindi abbiamo fatto un doppio cono vedete che ha tutte le caratteristiche che ci aspettavamo questa cosa facendo attenzione quindi prima di tutto a estrudere in realtà più che estrudere è proprio scalare soltanto i pezzettini che ci interessano c'è solo uno ogni due e poi quando vogliamo stringere dall'interno dobbiamo essere sicuri di avere un anello fuori e un corrispondente anello anche dentro in modo tale da poterli estrudere scalare la bisogna questo credo che sia tutto per questo piccolo mini tutorial ecco poi abbiamo ancora il problema dell'orientamento delle facce infatti se noi guardiamo questa scena abilitando l'orientamento facce vediamo che è rossa questo vuol dire che le facce sono le normali sono sbagliate allora per aggiustare questa cosa in realtà essendo che è tutta sbagliata basterà probabilmente fare il non mi ricordo più se qua dunque il il luv non ricordo mai dove è la cosa o se no facciamo semplicemente F3 che ricerca e mettiamo le normali ah mesh normali altenne ok quindi mesh normali qua altenne e poi qui basta fare flip oppure anche fare altenne e poi facciamo le flip e così in teoria le dobbiamo fare A per selezionarle tutte quindi altenne flip e così abbiamo tutte le normali bellissimissimamente blu e quindi l'oggetto è a posto poi tra l'altro se così desse dei problemi perché ci sono troppi spigoli qua eventualmente dovete poi fare un minimo di beveling per arrotondare un po' questi oggetti però probabilmente funziona già così